Oh ma Rossella, ma perché scrivi la stessa domanda 50 volte? Che sei un troll Ho detto che ti rispondo, che arriva a quel ragionamento lì, a quel discorso Non scrivi, non ripete la domanda 500 volte L'ho capito, ma è una cosa che stavo già, che dirò Allora, quindi, torniamo un attimino È la quinta volta che la scrivi, ma devo fare un ragionamento e poi arriva quella domanda lì Non è che ti rispondo adesso Se ti rispondo subito adesso, perdo il filo del discorso e dico una cosa Poi devo tornare indietro, no, lì ci arriverò, non ci arrivo adesso Segui la live e poi ci arrivo, era previsto che lo dicessi quello Non ripetela 500 volte, quella domanda lì Ti ho detto che ci arrivo e ci arrivo Allora, eh no, ti cazzo, ripeti 500 volte la stessa domanda, insomma Ehi, insomma, Rossella, smetti di ripetere la stessa domanda 50 volte